Ciao a tutti e a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo video, questo è un video che voglio fare veramente da tantissimo tempo e che ho lì lì, che non so mai se farlo, come farlo, come introdurre l'argomento, perché è un argomento abbastanza particolare ma soprattutto è molto controverso perché potrebbe essere visto male da alcune persone e bene da altre. Questo video non saprei neanche effettivamente se chiamarlo come ho in mente di fare oppure no però voglio un po' parlarvi di quelle che secondo me sono delle regole, ma forse regole è giusta la parola, delle linee guida chiamiamole così, all'interno di un rapporto tra due persone che può essere una relazione, un rapporto di amicizia, qualsiasi cosa sono delle regole secondo me o delle linee guida che possono servire e aiutarvi per il rispetto che è alla base di ogni cosa cioè senza rispetto e senza dei paletti, che non sono paletti che devono limitarvi vi serve semplicemente appunto a migliorare la situazione e comunque ad andare avanti affinché nessuno delle due persone, nessuno delle due parti sia effettivamente male. Queste regole mi sono venute, o queste linee guida mi sono venute di ispirazione tra virgolette su un video che ho visto su TikTok e tra l'altro è questo qui in particolare vi leggo più o meno e magari ve le analizzo una per uno Numero uno, non si va a dormire litigati, si discute e si trova una soluzione questa cosa è sacrosanta, proprio sacrosanta perché? Perché se avete visto il video probabilmente precedente a questo o un po' prima di questo sapete che essendo io in primis un overthinker se arrivo ad avere una situazione di stallo durante la notte il mio cervello proprio tende a creare combinazioni assurde su quello che può succedere o non può succedere pensando sempre alle cose più negative invece andare a dormire con una situazione tranquilla diciamo che allieta il tutto e ci fa andare a dormire appunto in maniera più serena cosa che invece potrebbe causare insonnia, attacchi di panico e magari proprio irascibilità la mattina ci alziamo col mal di testa, pianti e robe del genere che per quanto possono essere magari una risposta a una cosa negativa alla fine si repercuote molto sul fisico perché il fatto che dormiamo male e ci alziamo col mal di testa è una cosa prettamente fisica causato però da un fattore psicologico cioè da qualcosa che è successo a livello personale quindi veramente questa regola assoluta non si va mai a dormire litigati si cerca una soluzione anche al costo di parlare fino alle 3 del mattino si trova una soluzione cioè il sonno non mi interessa rimani sveglio o rimani sveglia si trova la soluzione si parla, si discute e poi si va a dormire proprio mantra assoluta non mi interessa che la mattina devi alzare alle 6 per lavorare hai voluto litigare la sera non hai voluto trovare la soluzione adesso ti ingegni sei sveglio o sei sveglia e trovi la soluzione insieme a me e andiamo avanti altrimenti non ha senso neanche proprio cercare un confronto perché se poi alla mattina mi devo alzare col muso, nervosa cioè non ha proprio senso che sia ripeto un rapporto interpersonale o di qualsiasi altra natura cioè non mi interessa non si fa non si fa e basta due niente bugie niente bugie proprio questo come vi ho detto tantissime volte la cosa che odio di più in assoluto nella vita sono le prese in giro che sono causate dalle bugie o dalle cose nascoste le cose prima o poi si vengono sempre a sapere in qualsiasi condizione e in qualsiasi modo voi vogliate le cose si vengono a sapere o se non si vengono a sapere si capiscono quindi è inutile che dite cose che non sono vere o nascondete la verità o fate finta che la cosa non sia successa perché le cose si vengono a sapere e ne ho avuto l'esempio palese proprio due giorni fa anche a livello lavorativo cioè voi non credete che le cose spariscono dall'oggi a domani perché io questa cosa la sono venuta a sapere da dei dipendenti che come me lavorano nel mio stesso settore quindi quando io mi sento dire no ma guarda la situazione è così e io poi chiedo a qualcun altro la situazione mi viene detta in maniera differente vuol dire che io ho il modo di venire a reperire le informazioni ma non perché io voglia indagare ma perché le cose mi vengono dette basta perché pensano che magari qualcun altro sia stato onesto nei miei confronti ed è quello che in teoria io mi aspetto bene o male da tutti l'onestà non dite bugie le cose si vengono a sapere non nascondete le cose perché vuoi o non vuoi social o non social le cose prima o poi escono anche per via trasversali non è detto che debbano arrivare a me o a chiunque in via diretta può succedere però quindi state attenti perché ne va della vostra onestà onestà intellettuale della vostra professionalità se si parla di lavoro e di tante altre cose che comunque riguardano voi numero 3 le promesse vanno sempre mantenute se non sei in grado di mantenere una promessa non farla se vuoi venire a trovarmi e non puoi venire dimmelo subito non posso venire inutile che dici no ma guarda sto facendo di tutto per venire a trovarti e poi in realtà non lo fai semplicemente perché vuoi evitare che io non lo so ci rimanga male ci rimango più male se mi dici una cosa che non è vera non ha senso che mi dici guarda secondo me è meglio che provo a trovare così ti inventi i castelli infiniti e poi alla fine neanche vieni a trovarmi dimmi semplicemente guarda la situazione è questa preferisco non venire oppure non me la sento oppure non posso ma dimmelo non fingere che ti interessi mantenere questa promessa oppure non fingere questa cosa ti possa interessare cioè non farla proprio io sono una persona che vuoi o non vuoi le promesse che ha fatto nel bene e nel male le ha sempre mantenute sono la prima che ammette che quando una cosa non la sa fare evita proprio di dirla cioè io sono veramente estremamente coerente con questa cosa ed è una cosa che del mio carattere mi piace tantissimo il fatto di essere estremamente coerente se dico una cosa la faccio sempre se quella cosa non la dico oppure tendo a evitare di dirla è perché o una cosa non mi interessa o mi sta veramente pesando tantissimo parla o non provo interesse nel fare quella determinata cosa altrimenti sono estremamente determinata nella cosa che vado a fare e soprattutto sono onesta perché se vado a dire una bugia che è collegato al non mantengo la promessa mento a me stessa in primis poi a quello che ho di fronte quindi se non sono in grado di mantenere la parola che ho dato lo dico perché in primis sto ledendo a me perché perdo di credibilità verso l'altra persona non è una cosa estremamente bella quattro dimmi cosa ti dà fastidio perché alla base di ogni rapporto c'è la comunicazione se io faccio qualcosa che ti dà fastidio devi dirmelo perché altrimenti io non posso correggermi non so capire dove sbaglio se tu non mi dici quella cosa mi dà fastidio quella cosa non mi piace perché magari quella cosa a me non crea problemi quella cosa a me piace quindi se io non lo so prendo il telefono in questo modo e a te dà fastidio perché sei abituato che lo prendi in questo modo dimmelo ora vi ho fatto veramente un esempio stupidissimo però ad esempio se io faccio il letto in un modo e tu lo fai in un altro dimmelo io sono abituato a farlo in questo modo preferisco che lo fai così oppure la tua parte la fai in questo modo la mia però me la gestisco io però ditelo perché se io non so cosa vi può dare fastidio io come faccio a modificare i miei atteggiamenti come faccio a capire che quella cosa può innervosirvi cioè sempre tutto alla base è la comunicazione dovete parlare e non obbligarvi a farvi tirare le parole parlate 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 c'è una cosa che vi dà fastidio ditelo e questo vale veramente in ogni tipo di rapporto e in primis banalmente questo rapporto va sulle amicizie perché le amicizie spesso si incrinano per delle stupidaggini assurde si incrinano per delle sciocchezze quindi che possono dipendere dal mi ha dato fastidio quel tuo atteggiamento o mai quel momento non te l'ho detto perché no ditelo subito vi dà fastidio guarda senti secondo me potete evitare questa cosa perché non mi ha fatto piacere mi ha dato fastidio non vi dovete preoccupare della reazione dell'altro è più preoccupante il fatto che voi non diciate come la pensate 5 la fiducia è la cosa principale fidarsi è bene non fidarsi è meglio e qui potremmo andare avanti per detti però no se io ti sto regalando la mia fiducia il mio modo di essere il mio modo di vedere e tu tradisci la mia fiducia la tradisci il fatto che io mi sia aperta con te e tante altre cose hai perso completamente tutto perché tu vuol dire che non hai interesse in quello che sono io nella mia persona in quello che faccio e la mia fiducia viene a cadere in quell'esatto momento e non è recuperabile proprio mai io cerco sempre di dare e forse sbaglio una seconda possibilità a chiunque alle volte anche una terza ma vabbè è raro ma è successo e mi rendo conto che sbaglio perché le persone tendono a non modificare il loro atteggiamento quindi se sbagliano o se pensano di far bene in realtà stanno sbagliando non si correggono praticamente mai se la mia fiducia l'ha già persa una volta è molto facile che tu la perdi una seconda volta perché il tuo atteggiamento non cambia ed è purtroppo qualcosa che io è qualcosa che io noto molto più frequentemente più vado avanti più cresco più mi rendo conto che è una cosa veramente scontata il fatto di non fidarsi o comunque di cioè credere che qualcosa debba essere quasi scontata ecco per me è sbagliato niente è scontato neanche la fiducia anzi la fiducia non è scontata voi perdete la mia fiducia perdete me cioè io veramente penso di farmi in 10 per le persone penso di dare il 110% di me agli altri più che a me stessa però su una cosa non transigo e sono appunto le prese in giro quindi quello che vi ho detto prima è la fiducia proprio sono due mantra assoluti 6 se hai un periodo stai vivendo un periodo che non è estremamente positivo per te non mettere il muro non migliorare non chiuderti parlami almeno dimmelo informami io posso provare ad aiutarti se vuoi altrimenti no ma almeno dimmelo cioè non sparire dal oggi al domani non far sì che il tuo atteggiamento possa creare nella mia testa tante domande dire ma perché questa persona è sparita ma che è successo che fine ha fatto perché non è cioè non ne vale la pena non crei niente di positivo nell'altra persona 7 l'orgoglio si mette da parte sempre e l'orgoglio serve quando dovete far valere in una competizione quando a livello lavorativo dovete emergere quando dovete fare delle cose ma a livello interpersonale l'orgoglio si mette sempre da parte perché che tu ti metti a urlare contro di me pretendendo di avere ragione per me vali meno di zero perché è una persona che mi urla in faccia comunque che fa in modo di ergersi come la paladina della giustizia no non ha senso per me non vali come persona quindi no assolutamente no lo metti da parte parli come una persona civile tranquilla e poi possiamo andare avanti 8 se hai ecco questo diciamo è più a livello proprio interpersonale parliamo di una relazione se perdi interesse ai miei confronti se non provi più le stesse cose o se non le riesci mai a provare dimmelo e metti in chiaro subito la cosa io non sono in grado di lo accetto magari ci metto un po' di tempo magari all'inizio ci sto male ma almeno lo capisco perché fingere di interessarti oppure far finta di provare interessarti si vede è palese io me ne rendo conto e torniamo al discorso di prima che le cose prima o poi si vengono a sapere quindi sì anche in questo caso si vengono a sapere o comunque me ne accorgo nove non farti mai influenzare dagli altri cerca di ragionare con la tua testa cerca di essere cosciente di quello che fai cerca di essere presente per te e non per gli altri perché la tua vita è la tua non è quella degli altri cioè se io devo vivere la vita degli altri me ne vado a casa degli altri e faccio la vita degli altri io ho una testa io ho un cervello io ragiono con la mia testa e questo lo faccio io in primis anche a livello lavorativo se è una cosa non mi piace a livello lavorativo io faccio di tutto per ottenere un'altra cosa così come in tutte le cose cioè se io penso una cosa la porto avanti fino alla fine anche se può causarmi dolore mentale fisico anche se non porterà niente fin quando non me ne rendo conto da sola e fin quando io come si vuol dire non sbatti la testa contro il muro per me va avanti va portata avanti e va combattuta con le unghie e con i denti e si porta avanti l'obiettivo dieci questa la aggiungo io perché qui non c'è anzi questa è l'ultima appunto era la nove io la decima ve la aggiungo io così facciamo cifra tonda perché appunto è preferibile metterci del mio non proprio emulare quello che viene scritto anche se sono d'accordo al 100% con quello che è stato scritto qua sopra se e questa è collegata a quella che vi ho detto prima quindi parliamo un po' di proprio di relazioni interpersonali proprio relazioni se perdi interesse nei miei confronti e inizi a sentire qualcun altro perché magari quella persona ti interessa di più è giustissimo cioè io non entro nella tua testa dimmelo perché come perdi interesse nei miei confronti vuol dire che ritagli del tempo da quello che dedicavi a me a qualcun altro dimmi questa cosa perché io mi rendo conto se una persona sia lontana mi rendo conto del cambio del tono mi rendo conto di qualsiasi cosa quindi quello che io vi chiedo è sempre di comunicare le cose che passate che vivete quindi non preoccupatevi assolutamente di quello che state vivendo ma semplicemente comunicatelo bene questo video è finito finalmente ci sono riuscita a farlo ma ci ho messo un'eternità voglio farlo da tipo due mesi ci sono riuscita noi ci vediamo al prossimo video sempre con questa luce bellissima c'è questo sole fantastico questa stanza meravigliosa noi ci vediamo al prossimo video e ricordatevi sempre questa frase ovvero do what feels right fate quello che vi fa sentire bene e noi ci vediamo la prossima settimana spero che sarà credo è Natale o no boh ciao ciao ciao